L'umile sottomissione Abbi retta coscienza. Dio sicuramente ti difenderà. Non ci sarà cattiveria che possa nuocere a colui che Dio vorrà aiutare. Se tu saprai tacere e sopportare, constaterai senza dubbio l'aiuto del Signore. È Lui che conosce il tempo e il modo di sollevarti. A Lui, perciò, devi rimetterti. A Lui che può soccorrerci e liberarci da ogni smarrimento. Perché ci possiamo mantenere in una più grande umiltà, è sovente assai utile che altri conosca i nostri difetti e che ce li rimproveri. Quando uno si umilia per i propri difetti, facilmente fa tacere gli altri e acquieta senza difficoltà coloro che si sono adirati contro di Lui. All'umile Dio dona protezione ed aiuto. All'umile Dio dona il suo amore e il suo conforto. Verso l'umile Dio si china. All'umile largisce tanta grazia, innalzandolo alla gloria, perché si è fatto piccolo. All'umile Dio rivela i suoi segreti, invitandolo e traendolo a sé con dolcezza. Così colui che umilmente ammette la propria colpa, si sente pienamente in pace avendo egli la sua dimora in Dio e non nel mondo. Non credere di aver fatto alcun progresso spirituale se non ti senti inferiore ad ogni altro.